Siamo blindati tra manifestazioni, cortei, cioè, dai, essi bravo, no? Dateci pure pace, no? Il primo martedì non si può parcheggiare, il terzo sabato non si può parcheggiare le piante. Noi stiamo con questa macchina a casa, se la portiamo... Eh sì, bravo, no? Cioè, con tutte le stesse... E' da pace, no? A me mi hai mai visto manifestare Percelli, mi hai mai visto sui TG? Io che vado a Percelli, eh, è morduto! Se no in campana, state in campana, voi venite qui a far manifestare? Fammo una bella cosa, siamo 5 milioni? Fammo 400 gruppi da 250 mila. E cominciamo. Il 13 parso, il gruppo di Giancarlo va a Pisa. 250 mila romani che ti vengono a Pisa. La torre la abbassiamo e ci fammo il rinfresco, il buffet. Ma tu pensi, no? Scusa, seriamente. Ma io pensi che io venga a casa tua tutti i giorni come noi, ma non te rompo le palle.